E' già! Allora, innanzitutto, 2-3 maggio, l'evento si terrà alla Extreme Fish di Davide Gariboldi, che sarà un ospite spaziale, come è sempre stato, e a Cranata e Brianza, quindi vicino a Milano, per cui tutti quelli del nord che l'anno scorso si sono lamentati e che l'abbiamo tenuto a Roma, a questo punto non hanno veramente niente da lamentarsi, ok? Quindi ce l'avete a due passi da casa vostra. E l'evento sarà un evento di due giorni, ci sarà per entrambi i giorni una breve parte teorica, ma il grosso verrà fatto in pratica, in palestra. Ora, avete già visto l'anno scorso e l'avete visto, potete vederlo sul suo profilo Instagram, come lavora Eugene, quello che fa, l'anno scorso siete rimasti veramente estasiati, eppure io sono stato sconvolto perché mi aspettavo un workshop di alto livello, ma non così alto, abbiamo parlato di attivazione muscolare, abbiamo sentito e imparato a percepire tutti i distretti, muscolari, abbiamo lavorato sulla biomeccanica in maniera però smart, pratica proprio, sentendo esattamente determinate sensazioni che abbiamo potuto poi replicare e i ragazzi mi hanno scritto, sono veramente stati contenti perché l'hanno replicato nell'anno, durante l'anno, in palestra, quindi da quando sono tornato in palestra, per cui ci sarà questa impronta di base. E a dare il suo contributo, quindi amplificare il tutto, ci sarà John Meadows. Ora, John, è inutile che ne parlo, ve lo introduco perché lo conoscete sicuramente benissimo, ancora meglio di quanto conoscete me, è un tecnico favoloso che sta nel settore dell'industria del fitness da tantissimi anni, è un professionista, atleta professionista, segue diversi professionisti, ma soprattutto quello che io più apprezzo di John è che è un tecnico che si è evoluto tanto, soprattutto negli ultimi anni, quindi che è rimasto comunque aperto a possibili evoluzioni e si è sempre messo in critica, quindi sicuramente ha un bagaglio di esperienza non da poco. E peraltro il suo metodo di lavoro crea una fortissima sinergia con Eugene perché anche lui lavora molto sull'attivazione muscolare, la propria eccezione, il percepire i distretti muscolari, lasciare, come dice lui, sempre l'ego alle porte e ci presenterà logicamente il suo mountain dog training, quindi il suo metodo di lavoro che è veramente uno dei migliori da un punto di vista proprio di organizzazione e logica. Ovviamente essendo un evento pratico ragazzi il tutto verrà toccato con mano e sarà incentivato al massimo il vostro coinvolgimento, quindi fare domande, cercare di vedere alcuni punti, alcune cose, per cui seguiremo una determinata scaletta che pubblicheremo in questi giorni, vi terremo aggiornati per tutto come si organizzerà, come sarà impostato e tutto il resto, però fondamentalmente è richiesta la vostra massima partecipazione proprio per sfruttare al massimo l'evento. Eugene è la seconda volta che viene in Italia, John credo che sia la prima che tenga un workshop, quindi come avete visto e come vi avevamo promesso stiamo aprendo le porte a tantissimi tecnici che vengono da fuori e questi eventi sono un'occasione unica e tra l'altro vi consiglio di coglierla perché l'anno scorso Eugene una grande percentuale è stata composta da gente che veniva dall'estero e migrata in Italia proprio per andare a seguire il suo seminario. Quindi ci aspettiamo più o meno la stessa cosa, i posti disponibili sono 50, non di più perché logicamente essendo un seminario pratico dobbiamo dar modo a tutti quanti di vedere le cose, quindi se siamo un centinaio di persone probabilmente una persona si mette a spiegare, a far vedere le cose a un macchinario e gli altri non riescono a vedere per la calca, quindi un massimo di 50 posti disponibili e logicamente questi 50 saranno i primi che acquisteranno i biglietti. Quindi parleremo di metodi, quindi parleremo di attivazione muscolare, vedremo nella pratica come attivare ogni singolo distretto, parleremo di esercizi, ruolo degli esercizi, programmazione di allenamento, volume di allenamento, vedremo gli schemi motori che John inserisce che sono suoi specifici, ragazzi se avete visto qualche workshop di John come quella di Inburgo eccetera sono veramente spaziali, sono delle chicche uniche, John ci parlerà anche delle tecniche di intensità che inserisce, quindi ci sono tantissimi tantissimi spunti che come al solito rendono il seminario ricco e super utile perché sono cose che potete sperimentare nel momento in cui tornate in palestra. Io la cosa che dico sempre è che un seminario, un workshop è veramente fruibile, veramente utile solo nel momento in cui tornate in palestra iniziate a fare cose diverse. Se dopo aver seguito un workshop, tornate in palestra e fate sempre le stesse cose, allora avete perso tempo e soldi. Invece in questo caso veramente ci saranno tantissimi spunti che potete riapplicare e soprattutto potete confrontarvi con due tecnici tra i più importanti a livello internazionale. Quindi crediamo tantissimo in questo progetto, in questo seminario e non vediamo l'ora. Io personalmente sono super fomentato perché l'ho detto a Giorgia nel momento in cui abbiamo iniziato il campo della formazione ma anni fa abbiamo iniziato a pensare alle prime cose e ho detto io voglio arrivare al punto di far venire John in Italia perché secondo me è uno di quelli che può dare più spunti in assoluto. Ora per quanto riguarda il prezzo, ci siamo riusciti ad uniformare la prezzistica dell'anno scorso di Eugene quindi ci sarà un primo prezzo lancio di 3,99 che durerà fino al 15 febbraio poi da là il prezzo andrà a salire. Però diamo la possibilità di prenotare il posto con un acconto di 200 euro. Quindi in questo caso per iscrivervi scrivete una mail a info-rhinocoaching.it Quindi info-rhinocoaching.it Richiedete semplicemente di iscrivervi, ovviamente scrivete per qualsiasi altra informazione, richiesta, domanda che vi venga in mente e da là vi risponderemo, vi daremo tutti i chiarimenti e vi segneremo tra gli iscritti al corso. E come ciliegina sulla torta voglio dare anche un mio piccolo contributo inserendovi da questi due giganti con la partecipazione al corso riceverete un programma che sto preparando in questo momento e potete seguire sulle mie storie di Instagram di 4 settimane preimpostato quindi non dovete customizzare niente, cosa che potrebbe mandare in crisi qualcuno però è tutto preimpostato per condividere qualcosa, darvi degli spunti ulteriori prepararvi al meglio al seminario se vogliamo e questo è di nuovo un mio piccolo contributo che ci tengo a fare perché crediamo tanto in questi progetti crediamo tanto nella possibilità di far venire dei tecnici da fuori l'Italia non è ben vista, ve lo dico sinceramente da questo punto di vista perché non c'è questa cultura del fitness così ampia però noi crediamo che possiamo raggiungere un buon livello crediamo che possiamo ampliare ancora di più questa cultura diffonderla al meglio per cui facciamo il nostro e vogliamo incentivarvi quanto più possibile a unirvi alla nostra mission questo workshop è super importante e qua chiudo è fatto in collaborazione e partnership con la H2 Max quindi un progetto di formazione di Massimiliano Febbi di cui sentirete sicuramente parlare perché abbiamo tanti tanti progetti in mente quindi c'è questo gemellaggio per quanto riguarda il discorso formazione Rhino Coaching H2 Max vi invito a seguirlo su tutti i vari social trovate tutto qua sotto in descrizione e per il resto ragazzi vi direi ci vediamo al prossimo video però vi dico ci vediamo il 2-3 maggio perché sarà un evento veramente veramente spaziale